del Livorno, ma il Pescara è tolto, il Pescara c'è, non demorde e prende il pareggio nel secondo dei tre minuti di recupero, testa di Meusciai, vantaggiato, sbaglia il tocco di testa e in maniera pronto, come un falco, va di rovesciata, prende la palla in maniera sporca, ma quel che basta e quel che serve per battere Mazzoni, meritato pareggio per il Pescara all'intervallo, 1-1.